Questione Etra, la discussione dopo l'infocato incontro di poche ore fa continua. Vi abbiamo fatto sentire le ragioni dei sindaci che chiedevano di redistribuire gli utili incamerati quest'anno da Etra, 7 milioni e 600 mila euro. Oggi vi facciamo sentire le ragioni dei primi cittadini che vogliono invece tenere questa importante cifra in cassa, capofila il comune di Bassano. Io credo che non si debbano sistemare i bilanci dei comuni dividendo gli utili delle società partecipate, ma bisogna spingere le società partecipate a spendere al massimo i propri denari e a rafforzarsi anche finanziariamente per poter fare gli anni prossimi maggiori investimenti. Investimenti che sono nel servizio idrico integrato, quindi acquedotto e fognature e in raccolta e smaltimento dei rifiuti. Se sul fronte re, distribuzione degli utili, il blocco bassanese e quello dell'altopiano sono su due fronti contrapposti, sembrano invece alleati sul rinnovo degli organi societari. Su questo tema si forma un terzo fronte. E spiace anche qui notare due diverse velocità, perché l'area dei comuni vicentini, quindi del bassanese e dell'altopiano, già da tempo hanno i nomi pronti per poter rinnovare sia il consiglio di sorveglianza, sia il consiglio di gestione, mentre purtroppo nell'area del Padovano ancora non ci sono gli accordi sufficienti per esprimere i rappresentanti. Bisogna farlo però più presto nelle prossime settimane, al massimo entro a fine dell'estate, perché poi altrimenti la società non ha chi la governi e quindi non può muoversi con la necessaria efficienza.